E' stata la settimana della deflagrazione del caos in seno all'Aquila Calcio. L'esonero del DS Battisti, deliberato dal CdA, e le dimissioni dell'allenatore Morgia, legatissimo a quel direttore sportivo che lo aveva fortemente voluto la scorsa estate, hanno scoperchiato un vero e proprio pentolone. Morgia non le ha mandate a dire e dopo aver interrotto il rapporto ha attaccato frontalmente l'Aquila Calcio e in particolare l'amministratore Ranucci, il quale a suo dire avrebbe ostacolato lo sviluppo del progetto tecnico dello stesso Morgia. L'Aquila si trova a dover ripartire dalla gara interna col Flaminia dopo essere scesa al quinto posto con una rincorsa al primato quasi compromessa e in un clima tutt'altro che semplice e una squadra molto legata al duo Battisti-Morgia. Tutto questo rende particolarmente difficile il lavoro del neo allenatore Pierfrancesco Battistini. Clima relativamente più tranquillo da Vezzano che peraltro vede sempre più difficile l'obiettivo playoff con un punto nelle ultime due gare, il quinto posto è a otto punti. Domani trasferta proibitiva sul campo della corazzata Monterosi, terza ma a due punti dalla vetta. Per l'allenatore marsicano Pino Tortora, Rosa al completo ad eccezione dell'infortunato di Genova. Nel girone F spicca il derby del Mariani Pavone tra Pineto e Vastese. Le due squadre sono state rigenerate dalla vittoria dell'ultima giornata. Il Pineto ha ripreso la strada verso la salvezza e Amaolo dovrebbe confermare la squadra che ha espugnato Alfonsine. Anche Favo dovrebbe dare continuità al modulo varato con successo contro la Vispesaro il 3-5-2 con Bartoli in difesa assieme ad Allocca e Campanella. Vastese che cerca punti in ottica playoff. È proprio su questo fronte che è particolarmente importante il match tra San Maurese e San Nicolò di domani. La squadra di Epifani, quarta forza del torneo, proverà a respingere l'assalto della quinta in classifica che tenterà l'aggancio.